Presidente, oggi l'assenzione dei magistrati è per protesta nei confronti della riforma della giustizia. Cosa c'è per voi che non va? Soprattutto anche è un segno quella dell'assenzione di una sezione come quella di Caltanissetta che ha i processi più importanti. Sì, si tratta di un'assenzione dall'attività giudiziaria che è stata una scelta molto sofferta, ma devo dire che non è un'assenzione contro qualcuno o contro qualcosa, è un'assenzione per spiegare, per spiegare ai cittadini che questa non è una protesta per difendere i privilegi dei magistrati, ma è una protesta per difendere le garanzie che la Costituzione riconosce anche a loro tutela. I magistrati con questa riforma verranno ad essere intimiditi, verranno ad essere gerarchizzati anche gli uffici giudicanti, dopo che la riforma del 2006 ha parzialmente gerarchizzato gli uffici di procura. Questa è una riforma che va a creare un completamento di un progetto che cambia lo statuto della magistratura, che ne modifica il dettato costituzionale ed è giusto che i cittadini abbiano pienamente contezza di quello che sta accadendo. Che percentuale di astensione c'è stata? I dati sono ancora parziali, ma posso dirle che la percentuale di astensione allo stato dello spoglio è ampiamente superiore al 60%. Alla prossima! Grazie.